Lo scorso 10 marzo l'Istat ha avviato la rilevazione campionaria del censimento permanente delle istituzioni no profit. Questa rilevazione coinvolge oltre 110.000 istituzioni, una su tre rispetto a quelle residenti sul territorio nazionale. Come già avvenuto per gli altri censimenti permanenti, i risultati di questo censimento saranno essenziali per denegare un quadro preciso, accurato e completo per un settore strategico fortemente eterogeneo e dinamico qual è quello rappresentato dal settore no profit. Come è possibile rispondere a questa rilevazione? Se avete ricevuto la lettera informativa firmata dal presidente dell'Istat potete rispondere secondo due modalità o compilando il questionario online oppure chiedendo tramite il numero verde dell'Istat un appuntamento per un intervistatore. Questo intervistatore si recarà presso il vostro domicilio e vi assisterà in tutto e per tutto nella compilazione del questionario. La vostra risposta è per noi di grande valore quindi anche semplicemente segnalare lo stato di attività dell'organizzazione no profit ci consente di produrre stime più affidabili e complete nonché di maggior qualità. Questa rilevazione chiuderà a settembre. Invitiamo tuttavia tutte le istituzioni a contattare preventivamente l'Istituto per fissare un appuntamento con un rilevatore. Per notare per tempo un appuntamento con il rilevatore è per noi fondamentale perché consente di programmare meglio questa attività e consente a voi di organizzare meglio il vostro lavoro. Come sanno bene tutte le organizzazioni del settore no profit sono i piccoli passi, i piccoli gesti a fare la differenza. Vi chiediamo pertanto di rispondere a questa importante rilevazione nel vostro interesse in quello più generale del paese.